Parino, dalla ragazza mia, stacce lontano, se no da un botto io, so testaccino. Io dalla ragazza tua ce sto lontano perché tu sei umorato e lo sai che hai spaccato. Ah, so testaccino vero, voi che volete, dieci a bagliocco so le cordellate, dieci a bagliocco so le cordellate, se c'ate in petto quarte, ne volete, so l'America, so l'America, oggi è domenica, all'asso che sta? E per asso sta perché sei testaccino ma io vengo dalla Magliana e stasera qui l'auditorium è la mia tana, sul parco ci stanno i migliori romani, la gente gli piace e ci applaude con le mani. Ma magari, ma ci chiamano nel senso a partecipare come cantante al talent, magari perché significa che non siamo così vecchietti. E invece, sì 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 sì, ma sì sì, io ripeto, secondo me poi è la gente a prescindere che decide poi quello che esce anche dal talent, sono usciti dei grandi artisti, tipo Mengoni, quindi insomma benvengano i talent nel senso, poi ovviamente esce pura la fedecchieria, insomma, la fedezieria, però poi dove vanno questi? Dopo un anno, due anni, non si sentono più, quindi veramente quello poi bravo continua e viene premiato, ecco. La ragazza che mi ha spinto fuori dalla strada, è la socia da Pietro, non è una bella vita, se ciò non te va bene, è un altro cieco, mi sfiga, stica vita, posso stanza e bravissia, trasfaccio fulghe e micro criminalità, ricordo, guarda lavato di schermi, storie di scasso, tante te con te, tante troppe, le giornate magre, ma ho manco, ho sempre tratto l'occhio, veda, viva e poi inizia a farla. Ora, a un giovane consiglierei tutte e due, nel senso che ora il talent ti dà una visibilità incredibile che non ti danno, ti dovresti fare duemila serate, ecco, che ora purtroppo non ci sono più tanti locali, neanche come una volta, che invece facevano suonare live, ecco. Però, ecco, il giovane, secondo me, deve fare un po' tutte e due, deve provarci al talent, perché poi se è bravo verrà premiato, e continuare a fare la sua cavetta nei locali, nelle jam, nelle battle dei freestyle, insomma, è giusto che sia entrambe le cose.